Innanzitutto sento un gusto floreale e mi piace molto il contrasto. Credo che il frutto principale che si senta sia il ribes, che ha una caratteristica molto particolare rispetto agli altri frutti. Sento la rosa e poi mi ricorda quando ero bambina, perché la mia nonna aveva questo profumo di rosa molto naturale. Sento subito qualcosa di molto dolce, la vaniglia. C'è anche un po' di tè nero, di black tea, che rende la tenerezza della vaniglia un po' più forte, un po' più intensa. Mi porta a sensazioni di dolcezza, di calore, di tenerezza, di tutto quello che fa la vaniglia. La vaniglia è coltivata in Madagascar e quindi parliamo di fonti sostenibili di questi elementi.